Ciao a tutti ragazzi e a tutti come state? Spero bene e vi giuro che anche io non credo al titolo che ho messo qui sopra ovvero Nintendo Switch nel 2024 è meglio una Playstation 5 allora, strano vero? Video strano perché per chi non lo sapesse io ho un canale di patinaggio freestyle e questo video nasce per due motivi, due il primo perché volevo parlarvi veramente della Nintendo perché l'ho trovata veramente super mi ha così tanto stupito che ho deciso di farci questo video sopra il secondo motivo principale è una marchetta tra virgolette per il mondo del patinaggio freestyle volevo far conoscere il patinaggio freestyle a dei ragazzini, a altre persone e se questo video piace magari e vieni cercato da bambini, ragazzini, gamer, kick-upper o walk-up con la Nintendo e incuriosito va a vedere cos'è questo patinaggio freestyle magari comincia a patinare, male non fa, ci potrebbe stare una cosa molto bene però prima di tutto metti iscrivi al canale e attiviti una super premessa chi sono io per dare un parere sulla Nintendo Switch professionale? nessuno, ripetiamo, non ho l'esperienza di gamer, non ho l'esperienza di un giocatore professionista e tra parentesi sono anche abbastanza scarso però sono una persona che è cresciuta prima dell'avvento di questi dannatissimi dispositivi tecnologici gli smartphone, madonna quanto mi sento vecchio a dire così molto bene, però ho avuto la fortuna di nascere con le console più fighe Game Boy Color, Advance, SP della Nintendo dopodiché io che sono passato al mondo Sony, PlayStation 1, 2, 3, 4 e stavo per andare a comprare PlayStation 5 a Natale di quest'anno 2023 inizio 2024 quando mi sono accolto che, capo, 600 euro di console era veramente tanto per l'uso che ne faccio io perché ragazzi io purtroppo creo di essere una persona che cresce, che comincia a lavorare e non ha tutto questo tempo, come aveva le superiori quando tornavo da scuola e mi mettevo ad accendere la console, di stare online oltretutto per lavoro mi sposto molto e sì è vero che ho la PlayStation anche in camper però diciamo che è un po' più complicato giocare in camper soprattutto perché PlayStation 4 e PlayStation 5 ma anche 3 in realtà cappero aggiornamenti di continuo connessione a internet, baghe cioè io se ho un'ora, mezz'ora di tempo al giorno che mi taglio io voglio accendere e giocare cosa che con la PlayStation 4 ultimamente mi era mancata che cosa invece con la Switch ho ritrovato Switch che mi è piaciuto un sacco per due motivi uno perché è portatile, ok? due perché comunque consumo un cappero cioè io la posso attaccare la TV sulla sua station station si chiamerà, sulla sua stazione, ok? e in 30 secondi barra 5 anche con il consumo di un tablet sono a giocare al mio gioco in questo caso Zelda che mi sta piacendo veramente tantissimo ma, Giacomo dai, su però sono solo chiacchiere facciamo una prova reale di questo da qui aspettate un attimo eccoci qua ragazzi vi ho posizionato in una posizione abbastanza carina se vedete sono un folle e qui dentro c'è la Switch perché dicevo che era figa perché era così portatile perché realmente in una società io ho la mia console il mio tablet qui, vedete? mi abbasso ho un bel tronco di albero messo qua bello tranquillo e adesso io mi faccio la mia partita alla Switch in maniera veramente comoda ok? e mentre sono fuori con i cani a farli scorrazzare, no? io mi vado a giocare al mio Zelda e devo essere sincero la versione OLED si vede veramente bene anche sotto luce del sole perché ho parlato della versione OLED? perché tendenzialmente ci sono tre versioni per la Switch ok, leviamo il volume sentite, c'è anche il volume però lo leviamo oddio mi si è sganciato il pad abbassiamo il volume lo leviamo ok? ci sono tendenzialmente tre versioni della Switch la OLED, quella standard LCD che ha lo schermo un periodo più piccolo guardate voi sotto la luce del sole se si vede o non si vede ok? qui c'è veramente tanto luce non so se la telecamera riesce anche a far vedere però sicuramente qualcosina si riesce a vedere ok? questo è un po' la visuale e questa è anche la versione di Zelda quella un po' più brandizzata molto bella però io riesco a vederci bene vi garantesco e vedo veramente bene nonostante ho una pellicola protettiva sotto lo schermo e questo mi permette di giocarci in maniera agile anzi, devo uccidere questo nemico l'ho ucciso al volo un attimo ucciso voilà e ho droppato un po' di rupee e guardate qua l'ho ucciso ora in 5 secondi e posso andare avanti per la mia storia che cosa c'è qua? un banana come si chiama? banana banana lame banana lame madonna però che nomi strani molto bene quindi io come potete vedere adesso faccio scorrazzare i cani e posso giocare tranquillamente alla mia Switch in maniera portatile ovunque come dicevo c'è 3 console Switch la OLED che è questa qui che ho comprato totalmente a caso perché era ignorante poi abbiamo la versione invece quella più vecchia quella LCD che allo schermo un po' più piccolo e poi abbiamo la versione Lite mi sembra che è quella soltanto portatile quale consiglio io di versioni? beh allora vi direi che la versione che sto utilizzando io la OLED è comunque la più nuova la più carina la più bella e costa comunque un 50 euro in più e basta quindi per me tutta la vita è la versione OLED però vi faccio vedere un'altra chicca più avanti mentre camminiamo un po' della Switch che è veramente interessante da utilizzare anche con dei giochi un po' più particolari ci vediamo tra un po' comunque ragazzi voglio un parere da voi ditemi se non è una delle recensioni della Switch in uno dei posti più belli la campagna Toscana è veramente bellissima e qui volevo proprio farvi capire il vantaggio di avere questa console super portatile che comunque ha la stessa qualità di quella che ha a casa sicuramente potrebbero dire che sì vabbè ma il full HD nel 2023 24 25 fino a che non esce la Switch 2 è un po' scarso che poi in alcuni ho visto che si arriva fino al 1080 in altri in altri si fa solo un HD normale con un 720 però ragazzi in realtà io ci gioco su un 50 pollici a casa poi lo vedrete a fin di questo video e la grafia è veramente decente cioè non è che ho avuto grossi problemi a dire wow mamma mia se vedi pixel cioè io per esempio sul camper gioco una Playstation 3 e la grafia è molto più brutta cioè non so come hanno fatto perché su un tablet avere quella grafia è vero che a volte su Zelda si lagga cioè però insomma la vista delle campagne toscate non è male però dai ragazzi è vero che a volte su Zelda lagga si blocca c'è un po' di di sfallamento quindi il gioco non è fluidissimo però cioè io che non sono un gamer di quelli super hyper pro cioè vedete ho cani lì no non so se si vede dalla linguatura uno è lì riu veni qua vedete ecco sta arrivando io li faccio portare fuori ora mi fermo non troppo stazione e posso giocare un quarto d'ora su giochi come Zedden in cui comunque devi andare a raccogliere materiale e puoi fare delle missioni anche molto brevi è il suo mi immagino anche Mario Kart Mario tutti i giochi di Nintendo comunque sia sono veramente super pensati per essere sia da casa che comunque per i giochi da 15 minuti pausa caffè attendere la Switch è comodissima un'altra cosa veramente figa della Nintendo Switch è proprio il fatto che sia veramente comodo da appoggiare guardate che posto fighissimo per effettuare una ripresa qui c'è la mia Nintendo Switch avete visto è veramente messa super bene e io semplicemente così e sfirando questo ok e accendendo la mia Nintendo premendo un tasto ok posso giocare a Zelda realmente utilizzando questa funzione cioè io sto ora mi chiede di resettare controller ok vedete una figata pazzesca premo a e posso giocare a Zelda praticamente utilizzando un controller esiste anche un'altra anzi mi spendo per uccidere quindi me ne vado da qua il più velocemente possibile e me ne vado tipo qua con il teletrasporto quindi sto effettivamente giocando a Zelda ma praticamente in una cornice bellissima cioè è una figata pazzesca controller in mano e ovviamente riusciamo a giocare in maniera veramente super super figa ed è una cosa veramente incredibile cioè riuscire a giocare con questa qualità e comunque con una felicità impressionante perché io in realtà ragazzi veramente sto tenendo i controlli in mano e sto giocando a Zelda mi sto muovendo nel gioco mi sono trasportato perché c'era la tempesta e non morivo perché c'avevo le armi in ferro e sto giocando a Zelda così ovviamente c'è anche il controller apposto a mettere però in realtà con un attimo di abilità si può giocare a Zelda tranquillamente io sto veramente giocando ora mi sto guidando della paravera e un altro di questi mostri non si riesca a ucciderlo così ah ce la faccio riesco a ucciderlo l'ho ucciso dai dai un'altra botta morto e voilà ecco l'ammazzato ora mi prendo altre banane ok e un rubino rosso non male niente male l'archi non pieni quindi tanto l'opo quindi ho veramente giocato con una facilità pazzesca e una semplicità super ma in che posto ho giocato cioè io rappoggio questo anzi fammi spengere Zelda altrimenti mi fanno fuori ok entro in un'area a riposo ho spento veramente la switch e guardate qua dove siamo cioè guardate la vista dove vi ho portato a giocare cioè è una figata pazzesca cioè ragazzi stiamo giocando in una posizione veramente bellissima cioè guardate qua riappariamo di qua guardate eccomi qua sta riapparando non sono molto delicato con il drone ve lo dico però ecco guardate in che vista e siamo qua a giocare cioè se noi si venga avanti con il drone ok cioè questa è la postazione con cui stavamo giocando cioè ora arriva che sta rompendo l'anima però ecco cioè noi siamo qua dove c'è il cane bianco ed è una figata pazzesca cioè vi porto un po' il giro qua cioè guardate dove mi ero messo cioè guardate in questo rudere così carino guardate che figata cioè questa voglio andando dove è rio c'è la switch che rio non deve rompere vero? vero rio mannaggia te però guardate che posto strafigo cioè forza portateci la playstation 5 a giocare qua eh dai dai portateci la playstation 5 su cioè giocate qua con la playstation 5 se riuscite molto bene ragazzi io direi adesso di rimontare tutto rimontare i controller perché sono comunque contento chiudiamo il video a casa con il finale in cui magari attacchiamo la switch al televisore vediamo un po' come funziona vediamo un po' la praticità della switch anche in casa e vi faccio vedere che la qualità è tutto sommato super buona e niente ragazzi quindi ora ritorniamo verso casa con il drone e andiamo a mangiare perché ho un po' fame quindi a tra poco eccoci qua ragazzi che siamo tornati all'interno della nostra casina perché andiamo a vedere adesso la switch oltretutto la versione Z ha un caser bellissimo però guardate quanto è veloce e semplice giocare con la switch allora innanzitutto la leviamo dal nostro caser protettivo esterno della nostra custodia la lanciamo qua sul tavolo in maniera molto scenografica e lo potete vedere grazie alla sua porta USB-C e questo qui che ho in mano è il case guardate quanto è bello intanto di Zelda ok con una semplicità esagerata io vado a inserire il case qui dentro ok pam anzi vado a inserire la switch all'interno del case in maniera molto semplice mi sgancio i joystick che abbiamo già visto posso giocare anche semplicemente staccati ma posso giocarci molto più comodamente in casa inserendoli all'interno devo essere sincero mi vado a fare a breve il controllo è quello un po' più professionale non tanto perché questo non funzioni male anzi funziona bene mi trovo bene ma perché per me ho un pelo troppo stretto l'unico difetto che trovo è che ho un pelo stretto però diciamo che ci riesco a giocare veramente bene ok molto bene qui adesso accendiamo la nostra tv dicevo accendiamo la nostra switch ok in maniera veramente semplice e c'è ragazzi guardate sono a giocare ok direi anche in maniera veramente easy come potete vedere devo ora riattaccare il controller ma si setta subito velocemente si è già settato premo A paff e sto giocando e sto riprendendo la missione da dove ero ok qui stiamo giocando su un 50 pollici ok mettiamo un albero ok usiamo un po' di legname ok e una ghianda c'è un qualche nemico qua da abbattere dai devo trovare dei nemici che poi abbiamo poco tempo questo mi sembra abbastanza potrebbe essere un cattivo o è soltanto un viaggiante un viaggiante no che palle dice cavo un nemico di quelli cattivi niente viaggiante vabbè niente andiamo a parere un nemico voglio abbattere qualche d'uno e non c'è nessuno vabbè è sempre così comunque questo è un altro viaggiante e niente ragazzi l'ho ammazzato prima quando si era fuori vediamo se troviamo qualche d'uno boh in questo sacrare qua vediamo 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 tipo boh vediamo qua che c'è qualche d'uno comunque ragazzi ah no questo qui è un sacrare molto scopodo in realtà vediamo se c'è qualche nemico quello è un nemico grosso ok molto bene quindi eccoci qua allora dicevamo che uh mi fa male questo ti devo fuori l'arco vediamo se comunque devo essere sincero una massima stima per chi fa gaming parla perché non è per niente facile sono in pompito io comunque ecco l'abbiamo ucciso easy un po' di materiale molto bene ragazzi ora non è che voglio fare un gameplay di gioco anche perché vi ho detto sono abbastanza scarso comunque potete vedere la telecamera che ho piazzato lì com'è la visione di Zedda è un po' angolata anche la prendiamo anche proprio frontale così la vediamo ancora un pelo medio me la metto qua in collo ok molto bene sperando che si veda qualcosa si vedrà qualcosa speriamo che si comunque ecco la visione l'abbiamo fatta lì questa è proprio di quello che vedo io con i miei occhietti la raba non ci interessa qui c'è una freccia però che fa sempre comodo e secondo me è una grafica tutto sommato è accettabile sì è vero che questo è un nemico lo proviamo a sciuttare vediamo questo mutatore qua quello è un nemico lo proviamo a sciuttare con l'arco sono bravo ce la farò a sciuttarlo no ecco ragazzi facci vedere quanto sono scarso l'ho sciuttato l'ho sciuttato ok ragazzi molto bene adesso io devo andare al lavoro perché comunque sia lavoro però potrei portarmi dietro la switch e sarebbe sicuramente una figata quindi adesso spingiamo e si spegne anche in una frazione di secondo e è tutto pronto cioè il bollo della switch è che è veramente super iperportabile e riusciamo a giocarci veramente in maniera molto comoda molto bene ragazzi io spero che questo vi sia piaciuto mi raccomando ti è piaciuto metti mi piace al video like un'iscrizione e noi ci vediamo a un prossimo video ciao ciao